Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Un Mondo di Cubi Allora ragazzi stavo costruendo proprio adesso l'impianto che avevo accennato nello scorso episodio Ovvero il terzo, la raccolta automatica dei drop della family scheletri E' una cosa talmente banale che ho deciso di non registrare nemmeno perché è veramente una cavolata Però alla fine visto che ero qua, che adesso ormai è finito Ho deciso che la conclusione tra virgolette ve la faccio vedere che tanto è una cavolata Allora andiamo qui, mettiamo il nostro legno qua, creiamo una cassa Ok, creiamo un hopper che si fa così E' il primo che facciamo, o meglio il primo che vi faccio vedere Perché ne ho già creato un altro Però non, diciamo che non l'ho preso Cioè non l'ho registrato ecco E perché tanto c'è veramente una cavolata questo impianto Adesso ve lo faccio vedere però è una cosa molto banale Che però col passare del tempo sarà anche utile Allora ho creato dei ganci che sono queste cose qua Cosa fanno i ganci? I ganci se non li mettiamo con una cassa nella crafting table Otteniamo una cassa trappola Così appunto noi possiamo mettere cassa trappola e cassa normali E possiamo dividere un attimino le due cose Allora vi faccio vedere Qua metterò l'hopper no? Qua c'è un altro hopper Qua, ok Questo qua lo andrò a togliere Perfetto E andrò a chiudere con la cobblestone questo punto Ok Il sistema è fatto Praticamente gli skateri arriveranno qua Io li ucciderò E tramite questo hopper Che magari potrei anche coprire facendo una cosa di questo genere Sì E tramite questo hopper io li colpirò E i loro drop andranno a finire esattamente in questa cassa Ecco vedete che tutti i drop sono andati già a finire qua dentro Poi quando ne avrò voglia Con calma potrò mettermi lì a smissare tutta la roba Anzi facciamo pure un esempio Butto queste Butto queste Vedete che volano lì E poi finiscono qua Dovrebbero Proviamo un po' Troppo veloce questi hopper vai Ok comunque vedete che aumentano Sì 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 Ok giusto Allora qua invece metteremo gli archi Ok Che saranno pochi Quindi li potremo anche spostare a mano Oddio dove sto andando Da questa parte metteremo le armature Che invece sono tantissime Però poi le sposteremo anche queste qua Nella casa Poi le cominceremo a usare anche Cioè ci saranno Le utilizzeremo un bel po' diciamo E niente invece questa ultima cassa Penso che la utilizzerò Per le cose incantate Anzi Ancora meglio ragazzi A sto punto faccio una cosa così Allora uccidiamo Questo tipo Strano Ok Allora andiamo a rompere Questo hopper Perfetto Andiamo a piazzare un blocco lì Andiamo a rimettere il nostro carissimo hopper Ok E così le cose Diciamo tra virgolette I nostri drop Li faccio andare fino in quest'altra cassa Perché lì voglio i picconi Ok qua E qua Perfetto Allora Adesso andiamo a mettere il tappeto Questo qua lo buttiamo lì dentro Cosa spari Cosa spari Mamma mia Allora Fissate fermi un secondo Basta Ok Un altro L'altro hopper L'avevo messo di qua Quindi andiamo a togliere anche quest'altro hopper Ok Lo andiamo a mettere di qui Perfetto Così almeno qua Terrò la roba incantata Quindi I picconi con fortuna La pala Mettiamo un attimo tutto va Ecco così Riesco a Girarmi e capire un secondo cosa sto facendo Adesso Mettiamo a posto la cobblestone Quindi facciamo una cosa Così Se riesco Ok Perfetto Ok E logicamente ne ho un cubetto in più Dove è finito? Dove andava messo sto cubetto? Chi lo sa? Non lo so Io non lo so ragazzi Dove andava messo sto cubetto Però ce l'abbiamo in più Va bene Quindi Ricapitolando Qua Abbiamo gli archi Qua abbiamo i drop Sì anche gli archi appunto Qua li potremmo spostare facilmente Quindi drop E Archi E Incantati Sì oggetti incantati E armature Si direi che così va piuttosto bene Allora adesso andiamo a prendere Una spada Un'altra spada di scorta Un arco E Poi avevamo il piccone da lavoro Il piccone con fortuna lo lasciamo qua Questa qua ancora da incantare Questo qua è sempre con fortuna Lascia E La pala la lascerei qua Perché questa qua è fantastica Ha tutto di più questa pala Ok Direi che Abbiamo Abbiamo tutto Anzi insomma Abbiamo anche questi tipi qua Questi brutti Ceffi Ok Perché Così arrivo a 30 livelli E incanto la spada Dai Butto anche subito i drop lì A meno non faccio Tanta fatica Ok Via E via Ok Hop E hop Perfetto Adesso prendiamo la spada Incrociamo le dita E vediamo un attimo cosa esce Oh La malpeppina Oddio Che cavolo è sta a fare ragazzi Questa calenda Ed è vastante sta a fare Oddio E posiamo questa qua E teniamoci questa qua Che abbiamo appena incantato La voglio subito testare su qualcosa E No La testeremo poi Al momento Debito Ok Qua buttiamo la roba Perfetto E andiamo via Altrimenti mi metto a farmare Ci sto degli anni Allora 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 Nello scorso episodio Avevamo parlato di Alcuni argomenti Ovvero questo E avevamo parlato anche di Questo ingresso Non so Come portarlo avanti Sinceramente Allora Perché Perché Qua potrei Diciamo Mettere le casse E avere il sistema di storage Unito Alla Alla home Diciamo Questa entrata No Poi il soffitto Non so se farlo Come il pavimento Che diciamo L'ipotesi più Accreditata Perché verrebbe Bostanza figo O di un altro Materiale E E niente Dovete darmi Principalmente consigli Voi ragazzi Dovete scegliere Voi cosa Preferite Comunque Direi che Adesso Faccio un piccolo Stacco Perché vado A prendere Un bel po' Di questa Clay Provo a fare Un pezzo Di muro E ci vediamo Tra poco Per vedere Come sta Ok ragazzi Rieccoci Questo qua sarà Più o meno Il soffitto Che avremo Vedete Si Può essere carino Ditemelo un pochettino Voi nei commenti Beh di certo Meglio che Questa stupida stone Questa stupida terra Ma non lo so Si è carino Alla fine Cioè perché Dà Un buon Senso Di Pulito Si da senso Di pulito E liscio Così da senso Di pulito E Boh Ditemelo voi Nei commenti Io qua Nel frattempo Farò altri corridoi Ispirati A questo qua Che abbiamo già fatto Quindi altro quarzo Che se ne va E E niente Cosa voglio fare Voglio fare Un piccolo test Allora Vediamo un attimino Se io faccio Una cosa così Ok Mi viene una cornice Oggi craftiamo Veramente tante cose nuove Allora Andiamo Di qui Un secondo E vediamo Se Ci stanno bene Delle cornici Qua Quindi prendiamo Un arco Anche di quelli marci Proprio Ok E lo mettiamo qua Allora arrivando Non da fastidio Di qua invece Fa un bel effetto Sì Ne crafterò Altre Dai Quindi andiamo a prendere Della pelle E degli stick Penso che Utilizzerò molto Gli item frame In questo In questo Questa sera Non solo In questo episodio Anzi Già che ci siamo Ne facciamo anche Tre da mettere sotto Si ne facciamo un bel po' Di item frame Ragazzi oggi Allora Andiamo a Vedere quanta pelle Abbiamo Quanto legno Vogliamo utilizzare E poi E poi quello che abbiamo Lo sfruttiamo Tutto quanto lì Allora Circa Almeno 6 Mi dovrebbero servire No Quindi facciamo 6 Di legno Grezzo Così ce ne verranno Veramente tantissimi Perché Qua lo moltiplichiamo Per 4 E qua lo moltiplichiamo Per Ancora 4 Vengono 48 Ok Pelle E pelle invece Abbiamo poca Andiamo un po' No pelle ne abbiamo tanta Ok Pelle ne abbiamo No quindi Tac Così E così Ok Perfetto E abbiamo ancora Altra pelle Adottura Bene bene Ne abbiamo 6 precisi Comunque Perfetto Al massimo Prendiamoci ancora Un paio di Pezzettini di legno No Così Se proprio Dobbiamo farne altri Ne abbiamo Ok E anche se Penso che 6 Dovrebbero bastare Almeno credo Poi se proprio Vogliamo fare dei grandi lavori Ce n'è di cose da fare Allora Andiamo quindi A vedere Come piazzarli Che item frame Metterci dentro O meglio Che item Qual è Item rappresentativo Metterci dentro Ok Allora Ne mettiamo Uno qua Uno qua Uno qua E Anche di qua Ne metterei Anche lì ce ne starebbe uno Ma non lo metto Andiamo a metterne Allora Uno qui Uno qui E uno qui Allora Qua di sicuro Mettiamo un arco Perché è quello Quello che ci va Anzi Per fare più figo Mettiamo un arco incantato Di quelli Scarsi Tipo questo Ok Tac Così da l'effetto Si fa un bel effetto Poi qua mettiamo Logicamente Un osso Ok Perfetto E qua logicamente Una freccia Che abbiamo già Questo qua Ce l'abbiamo sempre Ok Perfetto Si mi piace Mi piace Ok Adesso andiamo di qua E mettiamo Qua un'armatura Un'armatura Abbastanza rappresentativa Sarebbe Questa Si Decisamente Se no cosa abbiamo Anche No questo qua va benissimo Ok Qua invece cosa mettiamo Un oggetto incantato Tipo 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 Questa spada Che sta morendo Ok Almeno ci posso Posso già usare l'altra Ok Qua invece Mettiamo Oh Una freccia Un pezzo di ossa Penso un osso Dai Non so perché Forse perché rappresenta Di più lo scheletro Si Quindi Abbiamo Archi Ossa E Oggetti incantati E armature Ok ragazzi Rieccoci Scusate l'interruzione Però ho avuto Un piccolo problema E quando ho Diciamo Tra virgolette Voluto ricominciare La registrazione Non ho più potuto Quindi è passato Un giorno E Allora ragazzi Quindi Direi che In queste 24 ore Mi è proprio Mentre un mal di gola E questa è veramente Una bella cosa Infatti sentite che ho la voce Di un magrebino Con tutto il rispetto Che i magrebini E Allora ragazzi Quindi io Come al solito Vi ringrazio Invito a lasciare un like Perché youtube È stronzo A commentare A iscrivervi Al canale Per continuare A restare aggiornati In questo episodio Abbiamo fatto Gli item frame Facciamoci uno screenshot A questi bellissimi Item frame Dai tu finirai dritto Nella mia Miniatura del video Oppure tu No Penso tu Ti faccio ancora uno screenshot Perché sei troppo bello Ok Aspetta Così Perfetto ragazzi Quindi Ultimo viso E poi appunto Vi saluto Allora Ho finalmente Grazie a dio Fatto un miglioramento Sulla connessione Ho raddoppiato Il L'upload Ho raddoppiato O meglio Dimezzato Il ping Che è il tempo di attesa Qua c'è un uovo Niente gallina E E ho Addirittura Moltiplicato per 14 Il download Infatti avevo 0,58 E adesso Ho 70 Cioè 7 Scusate 7 senza virgole O 0 Niente Questa farm invece Continua a funzionare Molto molto bene Quali schederi Cadranno per sempre E Qua buttiamoci Giusto le ossa Che non ce ne facciamo nulla E Niente ragazzi Quindi Io come al solito Vi ringrazio Spero che vi sia piaciuto Questo Piccolo Impianticino Che è veramente Un impianticino Molto easy Adesso andrò Off camera A Farmare Altra di questa Bellissima argilla E andrò a Diciamo Finire Tra virgolette Se ci riuscirò Il Il soffitto E inoltre Ragazzi Sto preparando Una sorpresa Che non Tutti Non Tutti Per quando Si prende La partner E Visto che Sono Lì per Prenderla E Non Sono come altri Che non lo dicono Comunque Vi apriescono Dirlo Io Ve lo dico Apertamente Appunto farò Una piccola sorpresa Per Questo Traguardo Che veramente Fa Molto piacere Raggiungere Quindi Io adesso qua Come vedete Mi sono già messo al lavoro Spero di Finire Per domani Almeno domani Potremo Concentrarci Su un nuovo progetto Che logicamente Non vi spoilerò Comunque Vi avverto Che Probabilmente Sarà un progetto Che faremo qua dentro E E E E Ragazzi Quindi Io come al solito Vi ringrazio E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti